Io è il primo anno che sono in questa scuola e quando mi hanno parlato dell'attività mi hanno spiegato un po' l'anno scorso di che cosa si è trattato e subito ho dato il mio assenso, nel senso che poi anche vedendo i ragazzi, parlando con loro, sono molto contenti di quello che hanno fatto. È qualcosa che li sprona, perché stare soltanto tra i banchi è giusto che lo facciano, però quando non ho la possibilità di confrontarsi anche con l'esterno, con enti, associazioni, istituzioni come anche voi, loro reagiscono in maniera differente e si impara divertendosi. Questa è una bella soddisfazione per loro e anche per noi che li gestiamo da questo punto di vista. Cosa dire a un ragazzo che arriva dall'esterno? Allora, è un istituto professionale, dimenticatevi il fatto che non si studia, si studia divertendosi ma si diventa professionisti, quindi in questa scuola c'è la possibilità di lanciarsi immediatamente nel mondo del lavoro che li accoglie, con una professionalità che non ha nulla a che invidiare ai licei o agli istituti tecnici. Chi ringraziare ai professori? Indubbiamente noi ringraziamo la casa editrice Plan che ci dà la possibilità di accogliervi qua e anche voi Alma, voglio dire, siete voi che avete portato questa ventata nuova all'interno della scuola.